Musica Bella rega e benvenuti in questo nuovissimo video Io sono Mattus e oggi sono tornato finalmente a portarvi un nuovissimo contest Siamo arrivati a 550 iscritti quindi appunto è scaduto il contest precedente Ed oggi sono qui per portarvi il contest di Verratti in forma Rega carta che costa 55k quindi sarà un contest di 55k Per coloro che giocheranno su PS4 Prima di iniziare e appunto di darvi le regole per partecipare Ci tengo soprattutto a ringraziarvi di tutto il supporto che mi state dando Stiamo veramente volando e per questo vi ringrazio Le regole per partecipare a questo contest sono sempre le stesse Sono tre passaggi veloci, semplici e soprattutto rapidi Rega prima di tutto ovviamente lasciare un like a questo video Cosa di un secondo Secondo passaggio commentare con un numero da un accento Altra cosa di 10 secondi E per in ultimo ovviamente iscriversi al canale Quindi like, commento e iscrizione Tre passaggi rapidissimi Rega veramente qualcosa di semplicissimo Avrete la possibilità di vincere Ripeto Verratti in forma 55k Per coloro che appunto giocano per PS4 Quindi rega sto appunto facendo il massimo Per portarvi sempre contest nuovi Io spero comunque che questi miniziati vi piacciono Vi ripeto like, commento e iscrizione Noi ci becchiamo nel prossimo video Bella rega Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti